Nuova Coleos è in grado di individuare i veicoli in arrivo. Se le luci abbaglianti sono accese, passano automaticamente a quelle anabaglianti. Lo stesso accade in caso di sorpasso o di ingresso in area urbana. Successivamente vengono accese di nuovo automaticamente le luci abbaglianti. Impostare il comando luci di posizione su automatico. Attivare quindi le luci abbaglianti.